Sono 46 i campi estivi della protezione civile della regione campagna che daranno la possibilità ai ragazzi tra i 10 e i 16 anni di partecipare ad una settimana di attività ludico-rigreative completamente gratuite, finalizzate all'apprendimento delle pratiche da adottare rispetto ai possibili rischi naturali. Il progetto aderisce all'iniziativa del Dipartimento Nazionale Anch'io sono la protezione civile. Tra gli obiettivi dei campi di scuola ci sono la diffusione della cultura del rispetto del territorio, la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, la sensibilizzazione dei più giovani rispetto alle misure di autoprotezione, l'accrescimento della consapevolezza dei ragazzi, il valore civico di una cittadinanza attiva e delle conoscenze delle attività della protezione civile come strumenti utili alla sicurezza del cittadino. Quest'anno la regione campania ha finanziato le attività con oltre 180.000 euro e ha visto già nel mese di giugno l'attivazione di altri sei campi di scuola. In totale sono 52 campi organizzati dalla protezione civile della regione campania nel periodo che va da giugno ad agosto.